Ben trovati, la Chiesa non ha regole troppo rigide e la domanda che c'è fatta oggi. Per rispondervi vorrei prendere il capitolo 10 di Marco, quando Gesù incontra dei farisei e cercano di metterlo alla prova e gli chiedono se è lescito a un marito ripudiare la moglie. E lui risponde, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore e gli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Davanti a una tale risposta, i discepoli rimangono stupefatti e tornando a casa ritornano sull'argomento. Allora Gesù gli dice, risponde, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Spesso, in particolare in questi ultimi tempi, si chiede alla Chiesa di riconoscere le unioni omosessuali, il divorzio, il secondo matrimonio, eccetera. Come avete sentito, Gesù, che vogliamo spesso mostrare come qualcuno di molto buono, quel buonismo, no? Che accetta tutto. Gesù in questo Vangelo è molto chiaro, invece. Anzi, è più rigido ed è molto esplicito sulla regola del matrimonio, che era quella dei farisei. Perché i farisei avevano la possibilità di ripudiare la moglie e questa era una cosa che era basata sul libro del Deuteronomio, come esiste ancora, per esempio, nell'Islam. Gesù, invece, non sta accettando nessuna, nessuna eccezione. Tra l'altro, dice anche bene esplicitamente che il matrimonio è tra un uomo e una donna. Allora, come vedete, la Chiesa ha poca margine. Forse c'è un'attesa un po' troppo grande su quale riforme potrebbe fare la Chiesa. Perché il sacramento del matrimonio è ben precisato qui da Gesù. Il repudiare, il lasciare la sua moglie per andare con un'altra, o viceversa, la moglie con il marito, Gesù dice che è adulterio. Questo non vuol dire che la Chiesa non deve prendere in conto le sofferenze che ci sono. Tante persone fanno un meraviglioso cammino spirituale con o dopo un secondo matrimonio, dopo che il primo sia andato male. E l'accoglienza della comunità cristiana deve essere sempre più grande e generosa. Però il sacramento rimane. E le parole di Gesù sono così chiare, così precise, che sarà difficile tornare indietro. Quello che la Chiesa sicuramente potrà fare è vedere come considerare il primo matrimonio, il sacramento del matrimonio, nullo. Come dichiararlo? Come le procedure possono essere semplificate? Come riflettere su alcuni motivi che fanno capire che il sacramento in quel momento lì non è esistito? Ma certamente non dobbiamo avere la visione di un Dio che perdona tutto, un Cristo buono e una Chiesa invece che giudica è dura. Come vedete non è sempre così. La strada è stretta, la porta, ce lo dice anche Gesù, in un altro passo è stretta, il cammino è in salita. cerchiamo piuttosto di capire cosa il Signore ci vuole dire attraverso questa via che ci ha indicato. Il Signore E' che ci ha indicato che ci ha indicato il Signore